Quest'anno abbiamo una trentina di bambini tra 2004, 2005 e 2006, ma adesso ultimamente si stanno aggiungendo dei nuovi iscritti, contiamo di arrivare più o meno su una quarantina di ragazzi per queste tre annate. Diciamo che sono i primi calci e quindi sono le prime attività di base e oltre a queste attività di base anche giochi con la palla, non solo tecnica ma improntato più sull'aspetto ludico del gioco. I bambini si divertono, apprendono? Sì, i bambini oltre a apprendere le tecniche del calcio fanno questi giochi e quindi si divertono molto. A che età iniziano a giocare questi bambini? Come campionatino, torneino, loro non fanno ancora parte della fascia dei pulcini, sono scuola calcio, giocano delle manifestazioni che noi andiamo a fare, Ventimiglia, Lassio, dove ci chiamano, fanno le loro partite. Abbiamo due gruppi, li mischiamo, si divertono e non hanno ancora quello spirito agonistico per poter fare nessuna attività. Si divertono, la cosa più importante è che si divertono. Si divertono, quindi vengono... Prendono i primi fondamentali, le prime regole che gli impugniamo, ma sempre nella chiave ludica, sempre nel gioco. Prendiamo che loro facciano con gioia e con passione e che a questa età non puoi chiedere più di tanto. L'importante è prenderla con un gioco e viverla per quello che è. Poi chi è bravo uscirà fuori e si emanciperà rispetto agli altri e gli altri lo vivranno come buro gioco. Il vostro impegno qual è? Due giorni alla settimana? Noi con il 2004-2005 sì, due giorni alla settimana, il mattino e il sabato. Poi a salire tre e quattro giorni alla settimana. Però noi due giorni alla settimana. Quindi se ci volesse anche riscrivere c'è tempo? Sì, 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 c'è tempo tutto l'anno perché poi noi non chiuderemo mai le iscrizioni. Noi permettiamo a tutti anche di frequentare per un lasso di tempo gratuitamente, purché vengono e vediamo chi gli piace. Ed ecco i bambini della scuola calcio dell'Argentina che si presentano uno ad uno. Matteo, 2005, Forza Inter. Luca, 2006, Forza Inter. Milano! Doardo, 2005, Forza Inter. Davide, 2006, Forza Inter. Pop, 2005, Forza Inter. Alessandro, 2005, Forza Inter. Alberto, 2005, Forza Inter. Fabio, 2005, Forza Inter. Alessandro, 2005, Forza Inter. E' l'altro capo più grande? Cisere, 2004, Forza Inter. Leonardo, 2004, Forza Inter. Noah, 2004, Forza Inter. Luca, 2004, Forza Inter. Michael, 2004, Forza Inter. Simone, 2004, Forza Inter. Lory, 2004, Forza Inter. Riccardo, 2004, Forza Inter. Cristian, 2004, Forza Inter. Cristian, 2004, Forza Inter. Francesco, 2004, Forza Inter. Andrea, 2004, Forza Inter. Marco, 4 giugno, Forza Inter. Ma che è 4 giugno? Lorenzo, 2005, Forza Inter. E questo è il settore giovanile, la scuola a calcio dell'Argentina Armi. Ciao, sono Ria Chi!